Cari testa e ferite, buongiorno, buon venerdì, bentornati a questa rubrica video che oggi è dedicata ad una cosa che mi sta, diciamo, assillando in questo periodo. Cioè ogni volta che parlo di libri, cioè tutti i giorni, ogni volta che faccio un corso, mi viene da fare una riflessione legata a questo argomento, ovvero a quanto i libri, cioè la letteratura, ovviamente non i libri schifo, i libri di qualità, ovvero quelli afferenti al canone estetico della letteratura, siano assolutamente essenziali anche per autonarrarsi, cioè per dare ai bambini, alle bambine, ai ragazzi, alle ragazze, ma in realtà ai lettori di qualsiasi età, gli strumenti per creare una narrazione di sé, o meglio, tante narrazioni di sé. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'essere umano è fatto di storie, siamo umani perché siamo fatti di storie. Il fatto di poter raccontare storie, di poter produrre storie e accumulare storie è l'unica cosa che ci differenza dagli altri esseri animali. Il fatto di essere fatti di storie vuol dire che queste storie le dobbiamo inglobare, ma qual è lo scopo dell'inglobare storie? Ce ne sono tanti naturalmente di scopi, però a livello diciamo più profondo, a livello anche di sopravvivenza della specie, se volete metterla così. Lo scopo principale è anche quello di raccontare la propria storia, cioè di inserirsi dentro una società, un insieme di persone attraverso la narrazione di sé stessi e questo vuol dire un riconoscimento di sé stessi, del posto che occupiamo nel mondo ed una identificazione di ciò che siamo, cioè il riconoscimento della nostra identità. Ora, come facciamo però a raccontare delle storie di noi stessi, cioè come facciamo a raccontarci? La letteratura serve anche a questo, cioè tutte le forme narrative che incontriamo servono ad offrirci anche uno spunto di contenuto che poi si va ad accumulare, come se fossimo un sacchetto in cui si accumulano storie e quelle storie cominciano a creare tutta la nostra capacità anche immaginativa, cominciano a dar forma. Ovviamente si assomano a quello che già abbiamo dentro, ecco, non è che arrivano nel vuoto, però vanno a costruire senso e narrazione all'interno di ciò che siamo. Ma questo non riguarda tanto che cosa raccontano le storie, perché come sapete in letteratura il come è molto più importante del cosa. Certo che possiamo trovare delle storie esemplificative o esemplari o, insomma, fondanti per alcune persone in cui uno si ritrova, si rivede, questo certo che può essere, c'è l'immedesimazione sempre che è fondamentale, ma non sto parlando di questo, sto parlando proprio del fatto che per come un libro significa ci sta dando un modello per come noi possiamo significare noi stessi. Può essere una forma letteraria di tipo narrativo, può essere una forma per immagini, per illustrazioni, può essere poesia, può essere un mix di tutto questo, può essere un catalogo, può essere qualsiasi forma, ma ci sta dando un'opportunità per dire, puoi raccontare la tua storia anche così. E credo che questo sia fondamentale, perché se è vero che ogni parola è una freccia all'arco del linguaggio, come dice Chiara Carminati, è anche vero, secondo me, che ogni storia è una freccia all'arco della narrazione, dell'autonarrazione, cioè della capacità di raccontare noi stessi. Quindi ogni libro vale per sé, cioè vale di per sé, non solo per ciò che racconta, questo non lo vale mai dal punto di vista letterario, però certo che il suo contenuto ci può colpire in maniera più o meno forte. Pensate anche ai role models, pensate alla forza che stanno avendo le biografie, però è più vero, secondo me, che è molto più profonda e molto più importante, si sedimenta a livello più profondo dentro di noi la forza delle storie per come sono fatte, per come riescono a dirci una storia si può raccontare anche così, la tua storia la puoi raccontare anche così. E se abbiamo a che fare con bambini e bambine, ragazzi e ragazze, credo che fornire tanti esempi di come si possono raccontare le storie, ovvero di come ognuno di loro può scegliere di raccontare la propria storia, e non una volta, non in un modo, ma in tanti modi, ogni volta che vuole, e credo che questa sia una cosa importantissima e potente, e credo che sia anche un buon esercizio a livello di avventura di lettura, se poi vogliamo dargli uno scopo non esplicito, implicito, non didascalico, ma insomma didattico sì però, cioè trovare un libro che può sembrarci particolarmente significativo da questo punto di vista e poi traslarlo nella narrazione di un individuo, che può essere all'inizio accompagnata e altre volte invece poi emerge da sola, ecco. Però questa era la pillolina a cui volevo dedicare il video di oggi, non so se ci avete mai pensato, non so se sto dicendo invece una banalità, non lo so, ditemi cosa ne pensate, per me è importante, sta diventando sempre più significativo nel mio approccio ai libri e alla letteratura questa cosa qui, cioè il fatto di vederli anche in un'ottica di dare uno strumento in più alla capacità di bambini e bambine, forse ancora di più di ragazzi e ragazze, di potersi raccontare nel modo che ritengono più vicino al loro modo di essere, di scoprirsi anche man mano in un'identità complessa attraverso l'uso complesso di modelli di storie. Io qui mi fermo, ci vediamo la settimana prossima, vi ricordo che ci leggiamo tutti i giorni su testefiorite.it, sui canali social di Instagram, Facebook e la newsletter una volta al mese, e soprattutto se volete venire ad approfondire alcuni aspetti della letteratura per l'infanzia e l'adolescenza, vi aspetto nel portale dei corsi in demanda di Teste Fiorite Lab. Ciao!